Ciao io sono Federico ed in questo video capiremo come utilizzare la funzione testo formula ovvero testo formula semplicemente trasforma una formula che abbiamo all'interno di una cella in un testo in modo che sia facilmente comprensibile quali sono gli argomenti presenti all'interno di questa e quindi poterla leggere con più tranquillità. Vediamo come funziona sul nostro file excel. Abbiamo davanti a noi quindi una formula di subtotale che abbiamo precedentemente impostato. In questa formula di subtotale abbiamo la selezione semplicemente di una media al numero 1 come funzione principale e poi la selezione della colonna g2 g11 che sarebbe il nostro costo totale. tramite la funzione testo punto formula semplicemente restituisce una formula come stringa quindi il nostro riferimento può essere il nostro subtotale. Chiudiamo la parentesi tonda e la formula che prima era visualizzata semplicemente come un risultato adesso sarà visualizzata come effettivamente la formula quindi uguale subtotale 1 per la selezione che va da g2 a g11. Ovviamente in questo modo sarei riuscito ad ottenere il testo della formula convertito come stringa e potrai leggerla tranquillamente. Se questo video ti è stato utile ti chiedo cortesemente di lasciare un like e di iscriverti al canale. Grazie mille e alla prossima. Ciao!